E' ancora! E' anche un movimento sensual! Un movimento sensual! Un movimento muy sexy! Sexy! E' anche se viene solo a soco di questo bale che è BOMBAS! Voi a baiare Sosunia! Voi a usare 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 Sosunia! E' anche se è parlarabile, Una ripuesa d'acqua di due volte. Un movimento sensual! Giù bene, giù bene. Ok, la parte più divertente. Cominciano le donne. Le spondono le uomini. Cominciamo. Donne. Così. Uomini. Grandissimi. Le donne. E ancora. Donne. Le donne. Uomini. Così. Con la vera e luna. L'abbraccio fa sulle casse. Unicato di litro, di giurina. Donne. Ritornello, voce. Pronti con la mossa. Vai con la mossa. Così tutti insieme. Mani. C'è. 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 C'è.